Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in Napoli ha intensificato, anche nella settimana d'ingresso della campagna nella zona gialla, il dispositivo dei controlli volti a verificare rispetto delle misure anti-Covid. In totale sono state controllate, tra il capoluogo e la provincia, 2.842 persone e 268 attività commerciali, 88 le sanzioni complessive a carico di persone senza mascherina e in strada durante il coprifuoco. Sanzionate all'esterno dell'area portuale 25 persone fuori orario, che hanno dichiarato di essersi attardate in zona mergellina e in altre aree della Movida. Dai controlli sono scaturite anche segnalazioni alla Prefettura, denunce all'autorità giudiziaria e un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, con sequestri di hashish anche grazie all'ausilio delle unità cinofile, tra la stazione centrale Garibaldi, il quartiere San Carlo Arena e la circonvesuviana di Barra. In particolare, tratto in arresto nel quartiere Soccavo, dai baschi verdi del gruppo pronto impiego, un 48enne spacciatore trovato in possesso di 100 grammi tra marijuana e hashish, contenuti in 13 involucri, 10 grammi di cocaina suddivisa in 24 dosi e 1.825 euro in contanti. Inoltre, il primo nucleo operativo metropolitano, nell'ambito di un intervento ispettivo congiunto con il commissariato di Polizia di Stato e il Dipartimento e la Polizia Municipale di Posillipo, ha scoperto all'interno di un vivaio in via Petrarca tre lavoratori in nero, di cui uno straniero privo di permesso di soggiorno. Infine a Nola, le fiamme gialle del locale gruppo hanno sottoposto a sequestro oltre 200.000 articoli e accessori per l'estetica, per acquario e per ufficio senza le indicazioni di sicurezza in lingua italiana, segnalata alla Camera di Commercio una 57enne di origine cinese, titolare di uno store di casalinghi.